Il lavoro alla Sigma mi conosce bene, ma vedo anche tanti graditi ospiti. Sono Libero Grassi. A Palermo ormai anche i muri sanno che io sono quello che non vuole pagare il pizzo. Mi hanno detto, ma lei è esibizionista? Eh, certo, se era esibizionista passavo 60 anni in incognito. Comunque ho trovato qualcuno che ha seguito il mio esempio. È un commerciante. A quelli che gli chiedevano il pizzo, sapete che cosa ci ha detto? Fatevi pagare da Libero Grassi. Mi dicono che faccio d'ammurriate, che calugno gli imprenditori. Ma sono quelli che pagano la mafia, che calugnano se stesse il loro lavoro. Chi paga la mafia diventa parte della mafia. Li sottometti a loro. Ti dicono chi devi assumere, a chi devi vendere, a quanto lo devi fare. Certo, la mafia con il pizzo si guadagna. Ma soprattutto controlla il territorio e le persone. Le persone.